Ragazzi, oggi andiamo a Londra e poi al cinema. Sono molto emozionante. Sì, lo so. Io voglio vedere un film chiamato Alvin Superstar di Chipmunks. Oh sì, a me piace quello. Ok ragazzi, ora andiamo all'aria che ti aspetta. Ciao Dizosami, qual è la strada al cinema? Ciao. Voi siete nuovi? Sì. Noi pensiamo che la strada per il cinema sarebbe da quella parte, verso il London Eye e il Big Bang. Poi girate a destra e andate dritti e ritroverete il cinema davanti. Sì, è vero. Però fate attenzione alla strada. Dovete attraversare quando... Vi dice che potete, quando c'è il verde sul semaforo. Ok, grazie. Grazie mille. Arrivederci. Ci vedremo. E buon soggiorno a Londra. Ah, finalmente Alcimela. Ora andiamo a Alvin Superstar. Nessuno ci può fermare. Yuhuuu! Yuuu! Oh, ok, ok. Andiamo ragazzi? Mmm, sì. Ah, che bel film. Ci siamo divertiti molto oggi a Londra. Eh già, hai ragione. Pappagallino. Eh, scimmia. Adesso dovremo tornare perché si sta facendo buio e poi arriva la notte. Andiamo. Eh già, hai ragione Pappagallino. Sì, va bene. Adesso andiamo. Ciao, ciao. Alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao.